ciao ragazzi questi sono il video per l'allevamento delle dubbia che sono queste blatte qua vedete questa è una femmina già l'avete vista in qualche video di altri ragazzi che fanno allevamento come me delle dubbia rapido questo qua è maschietto con le ali la femminuccia è priva di ali allora questo è il mio box principale dove in cui faccio metto gli adulti per l'allevamento sotto non c'è niente questi qua sono cadaveri che loro otterranno della polverina quindi non glieli tolgo cibo secco pochissimo cibo secco pane e croccantini per il cane o gatto il cibo fresco lo metterò dopo dopo aver realizzato il video allora questo è il box grande per gli adulti io separo sempre una volta che fanno i piccoletti gli adulti vanno in un box mini che sarebbe questo qua che è piccolissimo tutto forato per la reazione anche nei lati forato si vede ed è piccolo perché le neanidi sono piccolissime queste sono appena nate e questo invece è il risultato che ci sta sotto nei cartoni anche questi fanno le loro mute infatti così qua sono mute vedete sono mute vedete anche qua sotto quante ce ne sono lo strato substrato sempre creato da loro non scappa da qua dentro non è mai scappata una platta mai a meno che io pulendo non si arrampica sul sulle mani oppure su una maglia maniche lunghe ed è scappata guardate quando ce ne sono sono tantissime queste qua come diventano un po più grandi adesso non ce n'è neanche una abbastanza grande da mettere nel nel terzo box diciamo si chiude così piccolissima ragazzi piccolissima vedete non è che è molto grande piccola 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 ok chiuso che così le nostre mamme le nostre mogli i nostri figli che hanno paura non hanno bisogno perché non scappano poi c'ho quest'altro box che è un intermedio dove in metto le blatte medie anche questo forato e queste sono le blatte medie dove all'interno per far diventare più secco perché poi le blatte secennano una sostanza gli escrementi insieme agli escrementi anche quando vado a mettere il cibo in questo caso l'arancia e il cetriolo fresco non impedisco ai cartoni delle uova di bagnarsi e di dare troppa umidità alle blatte e queste qua sono quelle medie anche se c'è qualcuna che bisogna tipo questa che bisogna spostare perché già è abbastanza adulta anche se non si sa il sesso che ancora piccola ma questo qua potrebbe anche andare infatti vedete quel liquido trova vedete quel liquido che sta cacciando e per allontanare il predatore e quindi va a bagnare eccola qua anche papia anche questa qua potrebbe già andare nel box degli adulti anche questa può darsi che fra una settimana o due diventerà maschio o femmina sono tutti medi la maggior parte ecco anche questo anche questo anche questo è un po quasi adulto e anche questo qua come fai a vedere se è adulto o no è più grande rispetto agli altri cosa può fosse diventare un bel maschietto con le ali quindi questi sono i miei tre box li separo perché c'ho anche una piccola piccolissima vendita tra amici così almeno recupero le spese perché comunque si devono ordinare se avete troppi rettili si consumano e quindi divido le spese con gli amici che hanno bisogno e poi per la riproduzione se ne ho troppi a volte usare occasioni li regalo sempre ad amici quindi i miei box sono uno per i piccoli due per i medi e tre per gli adulti in riproduzione la riproduzione già sapete che bisogna avere almeno 30 gradi qua anche d'inverno c'ho quasi 30 gradi perché oltre alle dubbi a riproduco anche i grilli anche se sono pochissimi quest'anno anche altri insetti tipo caimani poi vi farò anche un video poi sto facendo anche altre blatte le lateralis la cirenea e vi farò dopo qualche altro video su questi altri insetti se avete domande se avete bisogno anche di blatte basta contattarmi e io cercherò di rispondere il più breve possibile grazie ciao ragazzi